Ciao a tutti ragazzi, siamo di nuovo con Petri Corse e questa che vedete è una Ferrari degli anni 80 appartenuta al pilota di Formula 1 Nigel Mansell Questa è una Mercedes 190 SL degli anni 50 che ha anche preso parte alla 1000 miglia Precisamente è del 54 questa Mercedes e questi sono i fantastici interni bianchi e rossi Questa è una Corvette Stingray C1 È una Corvette degli anni 50, americana ovviamente e questa è la prima delle 8 generazioni di Corvette Questa è la C1 e recentemente nel 2020 è uscita la C8 e questi sono gli interni Grazie 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 Grazie